Prepariamo insieme i cantucci, con la mia ricetta infallibile. Belli vero? Versate in una ciotola la farina, un pizzico di bicarbonato o di ammoniaca, lo zucchero e mescolate bene il tutto. Quindi aggiungete la scorza di limone grattugiata, abbondante scorza di limone grattugiata, e le uova. L'olio extravergine di oliva e quindi le mandorle. Impastate prima con un cucchiaio e quindi con le mani. Aggiungete le mandorle rimaste e impastate. Fino ad amalgamare tutti gli ingredienti. Trasferite il composto sul piano di lavoro leggermente infarinato e lavoratelo fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo. infarinate a necessità. Allungate l'impasto e dividete. Se serve aiutatevi sempre con pochissima farina. Formate dei filoncini della dimensione desiderata. Più piccoli e stretti saranno i filoncini, più piccoli saranno i cantucci. formati i filoncini, io ne ho formati tre, trasferiteli su una teglia ricoperta di carta forno e infornate a 160 gradi per 20 minuti. Tagliate i cantucci e sistemateli uno accanto all'altro nella teglia ricoperta di carta forno e quindi ricuocete in forno a 130 gradi per 40 minuti. I nostri cantucci sono pronti. Grazie per aver seguito anche questa videoricetta. Alla prossima. Ciao!